Hello, Italiano, French? Italiano. Che cos'è Bikeso TV? Un programma televisivo dedicato al ciclismo, le bici. Che bello, dove siete basati? In Lugolari, siamo a Milano. A Milano, e avete visto tanti bici qua, molto, molti italiani, dico bene? Una produzione artigianale di alta qualità. Sì, c'è un po' di tutto. Un po' di tutto. Oggi sul giornale c'è una pagina dedicata a LifeBike. Sì, speriamo che ci sarà anche sulla Repubblica, vedremo. O forse la Repubblica, io lo sbaglio sempre. E allora, qual è la bici che le è piaciuta di più a lei? Joystick Bike. Che cos'è, come è bici? È una bici particolare che si guida con un joystick, esattamente come si potrebbe fare con un videogioco. È quella che le è piaciuto di più a lei? Sicuramente la più particolare. E a lei? A me è piaciuto di più. Quella e-bike, quella che è un po' da moto da cross quasi. Anche Bulltaco, bello. Molto bello. Perché sono dei concetti diversi di bicicletta. Ma di fatto quasi quasi non sono più bici. Sì, sono un misto. Permettono a persone che magari in bicicletta non ci andrebbero perché farebbero troppa fatica, però permettono invece di andare in bici, di avvicinarsi a bicicletta e divertirsi. E la bicicletta è popolare in Italia come in Francia, penso, dappertutto. Perché la bicicletta è proprio una tribù. Chi fa bicicletta fa parte della tribù. È una grande passione. Una grande passione. Grazie mille. Grazie a voi.